E' cominciata verso le 10 la requisitoria del pubblico ministero Enrica Medori nel processo in corte d'assisi a Tenovo per l'omicidio e l'occultamento di cadavere della pittrice 64enne Renata Rapposelli, originaria di Chieti e residente ad Ancona. La donna venne trovata senza vita il 10 novembre 2017 lungo l'argine del fiume Chienti a Tolentino dopo essere scomparsa il 9 ottobre da Giulianova dalla casa dell'ex marito Giuseppe Santolieri e del figlio Simone, ora imputati per l'atroce delitto davanti alla corte presieduta da Flavio Conciatori. Presente in aula solo Giuseppe Santolieri al fianco del suo avvocato Alessandro Angelozzi, assente invece Simone detenuto nel carcere di Pescara, rappresentato in giudizio dagli avvocati Gianluca Reitano e Gianluca Carradori. Un intervento fiume da parte del magistrato inquirente che sta ripercorrendo tutte le tappe del processo, oltre 20 le udienze ripartendo dalla prima deposizione, quella di Tonino Beccacce, amico di Renata, che presentò la denuncia di scomparsa dalla quale partirono le indagini. La requisitoria, che si concluderà nel pomeriggio, culminerà con le richieste del PM alla corte. Parti civili, la sorella di Simone, Maria Chiara Santolieri, rappresentata da Anna Maria Ugello, e l'Associazione Penelope, a tutela delle persone scomparse con l'avvocato Federica Guarella. Domani toccherà i difensori con le arringhe, sentenza prevista per il 21 settembre. Intanto è stata emessa ordinanza di dissequestro del cadavere della vittima, attualmente all'obitorio dell'ospedale di Macerata. Gli amici di Renata Rapposelli stanno preparando il funerale che si svolgerà al santuario di Loreto, in un giorno ancora da stabilire.